22 persone sono state arrestate dai carabinieri a Napoli con l'accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso, narcotraffico ed estorsioni. Tra i destinatari delle misure cautelari vi sono anche gli attuali vertici del clan Marfella, operante nel quartiere di Pianura. Gli investigatori hanno ricostruito quanto avvenuto tra il 2009 e il 2010, quando il clan Marfella strinse un'alleanza con altri fuoriusciti del clan Lago. Gli investigatori hanno accertato che il clan Marfella aveva stretto un'alleanza con l'organizzazione criminale dei Puccinielli, operativa nel reone Traiano per il controllo del traffico degli stupefacenti. Successivamente gli uomini del gruppo Marfella avrebbero avviato uno scontro armato con il Lago. Nel corso delle indagini sono stati accertati diversi casi di estorsione ai danni di alcuni commercianti e imprenditori della zona. Le misure cautelari sono state emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA.